Ah! 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 Sì, è il mio. Sì, è il mio. È il mio. La vita è messa ancora più sopra, ancora più sopra ogni giorno. Guardami ancora con gli occhi di ieri che sembra lontano perché non si speri che un giorno non serve per caso che parla soltanto qualcosa che un giorno di tutto è sbagliato e non esisterà una scusa. Guardami ancora con gli occhi di ieri che sempre era strano ma restere in piedi mi chiedo se fosse una stritta la nostra efficienza per andare a cercare la vita è soltanto questione che c'entra. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.